attenti che forse Val di Fiemme diventa tutti d'accordo partiti in vantaggio Vento d'Oriente con vicino Val di Fiemme seguono Alcuore Ramon Capoteulada, Bronco e Youngstack dopo 300 metri di corsa in vantaggio Vento d'Oriente davanti a Val di Fiemme Alcuore Ramon Capoteulada, Youngstack e Bronco all'inizio della curva prosegue in vantaggio Vento d'Oriente davanti a Val di Fiemme Alcuore Ramon Capoteulada, Youngstack e Bronco poco prima dell'ingresso è sempre in vantaggio Vento d'Oriente davanti a Val di Fiemme Alcuore Ramon e Capoteulada i cavalli entrano in dirittura Vento d'Oriente e Val di Fiemme conducono davanti al Cuore Ramon Youngstack, Capoteulada e Bronco passa Alcuore Ramon davanti a Val di Fiemme Youngstack, Bronco e Vento d'Oriente in vantaggio Alcuore Ramon attaccato all'esterno da Youngstack all'interno Alcuore Ramon passa Youngstack davanti al Cuore Ramon e Val di Fiemme grazie Grazie a tutti.